Amici di Teledeon, bentrovati a questo nuovo appuntamento con speciale interviste. Alla vigilia della solennità di tutti i Santi, è utile riflettere sul significato della santità al giorno d'oggi. Chi sono oggi i Santi? Come si cala questo concetto nella vita di tutti i giorni? Tutti i cristiani sono chiamati ad essere Santi. Ne parliamo con i nostri ospiti che vado subito a presentare, salutare e ringraziare. Cominciando con Don Carmine Catalano, grazie per essere con noi, responsabile del servizio Dioce sano per le cause dei Santi, oltre ad essere parroco nel centro storico di Canosa di Puglia. Al suo fianco lo ringraziamo Don Adriano Caricati, che è anche lui componente della commissione del servizio Dioce sano per la cause dei Santi ed è anche parroco della Chiesa del Sacro Cuore di Andria. Grazie per essere con noi. Ringrazio Silvana Campanile, responsabile della biblioteca Dioce sana San Tommaso d'Aquino di Andria e ringrazio il dottor Giuseppe Coratella, che è presidente parrocchiale dell'Azione Cattolica della Chiesa dell'Annunziata di Andria. Grazie a tutti per essere con noi. Il tema è particolarmente interessante, proprio alla vigilia della solennità di tutti i Santi. Perché abbiamo dato questo titolo alla trasmissione chiamata Universale alla Santità. Ma in realtà la solennità che fra qualche giorno vivremo, di tutti i Santi, in questa solennità è stata anche inserita la giornata di santificazione universale. Questa giornata è stata ideata anche un po' prima del Concilio Vaticano II. Nel 1957 un sacerdote proprio di Roma iniziò questa riflessione e quindi questa iniziativa prese piede e adesso è in tutta la Chiesa che celebriamo questa giornata di santificazione universale. Anche perché poi di là è nato anche il movimento Pro Sanctitate che è diffuso in tutta Italia e quindi come servizio Diocesano per le cause dei Santi è stato molto bello che abbiamo insieme con la Commissione concordato questa questa trasmissione per riflettere insieme sulla Santità oggi. Come possiamo coniugarla oggi? Noi siamo abituati a immaginare i Santi sugli altari con statue, con affreschi, ma la Santità oggi che significato ha? Che cos'è il Santo? Chi sono i Santi oggi? Il tema della Santità sicuramente attraversa la storia del Cristianesimo fin dalle sue origini. In ogni fase di storia della Chiesa ci sono stati in qualche modo modelli di Santità che hanno incarnato per quella determinata epoca un cliché, un'esemplarità. ecco, per parlare di Santità dobbiamo parlare della radice battesimale della Santità, perché la Santità prima di tutto è di Dio. Dio è il Santo per eccellenza. È famoso quel testo dell'Antico Testamento in cui Isaia, chiamato da Dio, ecco proprio nel suo libro ci parla del Dio tre volte santo, no? E questo attributo di Dio che è santo in qualche modo ci dà l'idea di una Santità come separazione. La concezione antica era quella di una Santità che era posta fuori dalla mondanità, ecco, dalle realtà di questo mondo. parola santo significa proprio separato, ecco. Ma questo concetto di Santità di fatto è stato radicalmente superato e compiuto con Gesù, perché lui che è il Santo di Dio è venuto in mezzo a noi e si è fatto carne. Per cui la Santità cristiana non ha nulla a che fare con questa idea di separazione tra santo e profano. Questa è una idea pagana della Santità, o magari una Santità interpretata alla luce solo della prima rivelazione. Il compimento però della rivelazione in Gesù Cristo ci dice che la Santità è radicata nella nostra umanità. È per noi che siamo battezzati, è lì che si radica la chiamata universale alla Santità. Quindi questo ci porta anche tra i laici a pensare che in fondo siamo tutti chiamati appunto nel Vangelo alla Santità e questo ci impegna quotidianamente, perché appunto oltre tutti i Santi che vengono richiamati nella solennità del primo novembre, in realtà ci sono tanti santi quotidiani e tante espressioni di Santità. Ricordiamo per esempio che qualche giorno fa in occasione del funerale della ragazza, della donna uccisa, proprio in Puglia a San Severo, il vescovo della diocesi ha ricordato che questa donna celeste era in fondo santa perché aveva perdonato il suo aggressore prima ancora di essere uccisa. Questa è una delle caratteristiche che deve riguardare la vita di ciascuno di noi. Sì, il Concilio Vaticano II con l'immagine del popolo di Dio e quindi la chiamata universale alla Santità ci ha messo appunto in contatto con questa realtà. La Santità non vista come qualcosa di separato ma che ci riguarda tutti e quindi laici in quanto credenti, in quanto cristiani, sono chiamati alla Santità e dove la realizzano questa Santità? Nella vita ordinaria. Cosè Tolentino de Mendonza, che è uno dei scrittori, poeta e uno delle voci più autorevoli della cultura cattolica contemporanea, dice che in suo testo, insomma, parla della Santità, dice se il peccato è la banalità del male, la Santità è la normalità del bene, proprio perché se dovessimo vivere la nostra Santità, oltre il peccato, oltre la fragilità e il limite, la Santità sarebbe qualcosa di diverso dalla nostra vita. Invece la nostra vita è un continuo confrontarsi con le nostre fragilità, con il nostro limite e quindi la Santità è proprio non... una bella immagine che da lui dice non si realizza nel momento in cui si supera la fragilità, ma è nella fragilità stessa, quella fragilità che diventa una opportunità. E queste non sono delle parole retoriche, no? Dele retorica della Santità, è quello che realmente si può sperimentare e che ci fanno sembrare la Santità qualcosa che appartiene alla nostra vita e non come una meta lontana un po' da realizzare, bella ma in fondo affidata in qualche modo un po' ai romanzi, no? Alla narrazione, ma che può qualche fare con noi. E lei è responsabile dell'azione cattolica nella parrocchia dell'Annunziata. La parola azione cattolica forse può significare proprio questo, cioè incarnare il Vangelo nella vita di tutti i giorni e l'azione, quella che deve muovere nell'ottica cattolica per raggiungere questa Santità moderna? Sì, certamente la Santità si esplica nell'ambito della... in azione, cioè la Santità non è un qualche cosa... una dote che viene conservata. Io vorrei collegarmi a quello che diceva Silvana. La Santità non è un punto di arrivo. San Paolo non dice ho raggiunto la fede, ho conservato la fede. La Santità, come diceva Don Adriano, è legata strettamente al Battesimo e il Battesimo è un dono, la fede è un dono, la Santità è un dono di Dio e la Santità è, diciamo, un punto di partenza quasi. Non è il punto di arrivo da conquistare con le azioni. Spesso è intesa la Santità come una conquista, perché noi abbiamo il concetto del riconoscimento del Santo. Il Santo è stato tale, lo riconosciamo come testimone e questa è una parte della Santità, è il Santo d'altare, diciamo, perché abbiamo bisogno di testimoni. Quindi andiamo a riconoscere cosa ha fatto, le azioni che ha fatto per raggiungere quel grado di Santità. Quindi confondiamo il riconoscimento con il vivere la Santità. La Santità, quindi, non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza e di consapevolezza e di vita. È vivere nella propria fragilità, quindi attraversando la propria vita, i propri ambiti, i propri stati, quindi nel lavoro, nella vita quotidiana, nella famiglia, ognuno nel proprio stato. Io come persona sposata, un'altra come persona nubile, celibe, un'altra persona come consacrata, eccetera. Quella che è la propria santità, che è legata alla consapevolezza di questa presenza di Dio nella propria vita e di risposta a questo dono, di presenza di Dio nella propria vita. E non dimentichiamoci che una delle figure di Santità che Gesù ci ha indicato sono i bambini. Cioè il bambino rappresenta la figura da lui indicata. Dovete essere come quello per essere Santi, non attraverso le azioni. Ecco, questa vostra riflessione, chiamo di nuovo in causa entrambi, impegna tanta gente, ma voi oggi riconoscete i segnali e i segni della Santità nelle persone che incontrate? È certo difficile. Com'è difficile? È un tempo un po' particolare, è un tempo, io dico sempre, in cui manca la pazienza. È facile sbottare, è facile prendersela con qualcuno per qualunque cosa. Parliamo anche di sciocchezze. Una mancata precedenza, l'altro giorno a Trani, una mancata precedenza sulla strada, i due contendenti scendono dalle auto e si cominciano a picchiare selvaggiamente davanti a tante persone che sono poi intervenute. Ecco, in un tempo così fragile, in un tempo dove manca la pazienza, riuscite ad incontrare, a scorgere i segni della Santità. Ecco, questo è importante, questo contestualizzare, cioè il Signore chiama ad essere Santi nel qui ed ora. È in questo tempo che noi dobbiamo scorgere questi semi di bene possibile che ci sono. È difficile vederli, perché è vero, osserviamo tutti queste manifestazioni a cui tu facevi riferimento. È però possibile quello che appunto ci siamo detti è che esiste, c'è modo alternativo di pensare e di stare al mondo ed è quello che bisogna proporre in maniera positiva. Io credo che ci sia anche questo. Faccia tanto continuare ad avere uno sguardo, a cambiare lo sguardo, a modificare, cioè a guardare con occhi diversi la realtà pur mantenendosi saldamente ancorati a questa realtà, appunto perché per non staccare la Santità dalla concretezza. Bisogna fare i conti con questa realtà e allo stesso tempo avere la consapevolezza che è possibile in qualche modo avere un altro punto di vista. Voi in particolare vi occupate anche dei ragazzi, dei giovani dell'azione cattolica. Riuscendo ad andare oltre il loro utilizzo compulsivo dei cellulari, riuscite a trovare nei giovani segni positivi della Santità? Sì, l'importante è capire dove le andiamo a trovare. Io penso che per parlare di Santità bisogna cercare i segni, cercare i segni dello Spirito in genere. Bisogna andare a trovare dove lo Spirito abita, insomma. E bisogna andare nell'interiorità delle persone. Nell'esteriorità è chiaro che noi vediamo i segni della fragilità spesso. I segni della fragilità dell'uomo ce ne sono quanti ne vogliamo. Le guerre sono l'espressione più eclatante di questa diffusa fragilità, di questa impulsività, eccetera. Però dietro questa facciata di esteriorità che poi è quello che è un po' il modo di pensare, di proporre di questa mondanità, diciamo, chiamiamolo mondo, come credenti noi siamo abituati a chiamarlo mondo, non come disprezzo, ma come corrente pensiero, modalità di agire. E al di là di questo, i giovani hanno una tendenza alla ricerca. Ci sono delle indagini fatte, molto ben fatte, in cui emerge questo bisogno di interiorità e di ricerca. È lì che sicuramente si gioca la partita. È lì che si riscopre un'interiorità che diventa, in virtù del battesimo, una dote da coltivare, da prendere consapevolezza e da vivere. Per quello che dicevo prima, la santità, molto probabilmente, ce l'abbiamo più di quanto pensiamo e sarebbe bello poterlo vivere e riconoscerlo e vivere. A questo punto mi rivolgo ai due sacerdoti, perché voi siete abituati a guardare anche il mondo laico, come si muove, come interagisce. E stiamo vivendo un momento in cui, lo abbiamo ricordato più volte negli ultimi tempi, anche il Vescovo di Andria, che è stato qui da noi la scorsa settimana, ha ricordato che stiamo vivendo un momento in cui i cattolici, i cristiani non sono più maggioranza assoluta nel Paese, perché è un mondo sempre più secolarizzato, un mondo sempre più distante. Ma oggi vivere nel Vangelo si può, oltre che si deve naturalmente? Si può, nella misura in cui ciascuno di noi, o comunque chi è chiamato a vivere la santità nei propri stati di vita, riesce, con la grazia di Dio naturalmente, a incarnare, incarnare il Vangelo. Si può, nella misura in cui ciascuno di noi scopre dentro di sé, ma anche nel volto dell'altro, ecco, quel riflesso, quella immagine, quella somiglianza di Dio, oggi è molto difficile. È difficile, ma non è impossibile, proprio perché c'è sempre quella consapevolezza che, credo, dobbiamo sempre, come credenti, dobbiamo sempre, come dire, rispolverare, cioè di essere veramente figli di Dio e guardare l'altro, anche se l'altro magari può aggredirti, guardare l'altro proprio come immagine e somiglianza. Tutto questo, agli occhi, come dire, delle persone normali, tra virgolette, risulta difficile. Però ecco, c'è anche e soprattutto la consapevolezza. Io penso che la consapevolezza dell'essere battezzato in quanto figlio di Dio può spingere ciascuno di noi a dire, a cambiare la prospettiva, a cambiare la mentalità e quindi a quello che poi Gesù ci rimanda, quello della conversione. Quello che diceva Don Carmine presuppone che la Chiesa continui a fare opera di evangelizzazione. Sembra quasi paradossale doverlo fare in una terra che da sempre è cattolica ed è cristiana. Eppure oggi c'è bisogno di far riscoprire nell'altro il volto di Cristo. E questo lo si può fare soltanto con un'opera vera di evangelizzazione? Assolutamente sì, perché di fatto noi viviamo in un contesto che è un contesto di missione. Negli anni 50 c'è stata in Francia la consapevolezza che la Francia, la prima figlia della Chiesa, fosse diventata terra di missione. Noi ci abbiamo messo un po' di più per renderci conto che i processi di secolarizzazione anche da noi hanno prodotto degli effetti evidenti. anche se noi rimaniamo ancora in una situazione di diciamo cristianessimo soprattutto nel mezzogiorno d'Italia perché in tante altre regioni del centro nord invece questo vento della secolarizzazione si fa sentire in modo molto più evidente. Ma anche noi dobbiamo ingannarci perché c'è un'appartenenza sociologica alla comunità cristiana anche i sacramenti sono vissuti più perché sembrano essere delle tappe come devo dire una specie di laica iniziazione con una benedizione ecclesiastica che non fa mai male ma la consapevolezza di un'appartenenza, di un essere inseriti in una comunità di credenti è sicuramente più evaporata in questo tempo però questo non ci deve scoraggiare perché invece i segni della ricerca sono dei segni evidenti che certo hanno bisogno di essere accompagnati quindi una nuova evangelizzazione oggi per la Chiesa significa proprio questo non stare lì da pulpiti che giudicano ma piuttosto mettersi accanto a questa umanità in ricerca una Chiesa in uscita una Chiesa in uscita secondo l'espressione del Papa che rischia di diventare un cliché e deve essere una comunità di presbiteri e laici che si fanno compagni di viaggio allora la sinodalità, il sinodo sulla sinodalità anche questo rischia di essere uno slogan se poi concretamente non diventiamo capaci di metterci accanto e di camminare insieme interrompo perché questo è il vostro compito quello di camminare accanto a chi non ha questo rapporto con Dio e con la fede come si può oggi? Cioè voi frequentate non soltanto le Chiese ma frequentate i luoghi di lavoro i luoghi di socialità, i luoghi di incontro, incontrate persone con delle estrazioni più varie ecco come fare a far capire? Gesù diceva sempre da come vi comportate che si dovrà vi riconosceranno. Voi sarete riconosciuti ecco come fare a farsi riconoscere oggi? Nella mia vita spirituale uno dei riferimenti più importanti è stato Vittorio Bachelet anche un maestro che è presidente dell'Azione Cattolica e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura che fu assassinato negli anni 80 dalle Brigate Rosse e la sua figura io da sempre l'ho vista come appunto quella persona che incarnava questo che questo essere cristiani nel mondo e proprio in quegli anni dopo il Consiglio quando Paolo VI parlava diede questa immagine dei cristiani nel mondo come ponte e diceva che dovevano essere un ponte tra la Chiesa e il mondo i cristiani semplificando un po' questa immagine e l'idea di dover appunto unire queste due cose che non sono di fatto separate io non sento mai di dover essere in alcuni momenti cristiana in alcuni momenti del mondo e credenti in alcuni momenti del mondo ma ecco Vittorio Bachelet diede un'immagine e rafforzò questo concetto esprimendo ancor meglio appunto dal punto di vista di laico questa immagine del ponte dicendo che il laico vive la tensione dell'arcata cioè bisogna essere diceva saldamente cristiani e vigorosamente uomini del proprio tempo e vivere in continuazione questa tensione cioè non è mai una cosa data per sempre e questo è un aspetto anche molto bello della santità cioè la santità e dinamicità e creatività non è una cosa statica non è la eraticità dei santi medievali così come il tempo li ha interpretati perché anche quello cioè non c'è una contrapposizione tra modelli di santità sono appunto quei santi che rispecchiano ogni santo rispecchia proprio la contemporaneità la sua contemporaneità il suo modo di essere al mondo e quindi si vive così in questa continua tensione che ogni giorno ne richiede una io ricordo sempre un'espressione di san paolo che dice siate il profumo di cristo cioè siate un po' la testimonianza un po' nella storia quindi l'incarnazione la continuità del messaggio evangelico spesso l'errore che noi facciamo come chiesa ma come chiesa anche come laici è quello di voler insegnare di voler essere diceva anche Don Adriano prima giudici giudicanti perché portatori presumiamo di essere portatori di perfezione perché portatori del messaggio perfetto quindi un po' farisaici in questo e quindi al netto di questo errore che non bisogna fare perché poi altrimenti siamo giudicati per le nostre debolezze quindi non possiamo presentarci come santi se poi sanno le nostre debolezze perché la prima cosa è di parli tu che sei debole parli tu che fai questo guarda chi parla quello che noi possiamo invece mostrare è la nostra consapevolezza di qualcosa di profondo che siamo portatori di qualcosa di profondo di appartenenza di battezzati di persone consapevoli di questo di questo dono profondo e che lo esprimiamo nel modo più semplice e più genuino attraverso i nostri discorsi attraverso i nostri sguardi attraverso quello che riusciamo a dare diceva Giovanni Paolo I nel suo breve papato ha lasciato una preghiera in cui diceva Signore dammi la possibilità di essere il meglio che posso e in questa semplicità in questa umiltà che è la base un po' di tutto ed è molto evangelico diceva cercare di essere spontanei però mostrando quello che si ha dentro questo è secondo me il segreto che ognuno di noi senza chiedersi dove mi trovo cosa faccio eccetera ma è portatore in modo spontaneo di quello che è siamo quasi in chiusura però un altro dei rischi che si corre quando si parla di santità è quello di finire nel devozionismo è un rischio ancora concreto per la nostra chiesa beh sì certamente perché una certa mentalità ti porta ad andare in chiesa per chiedere la famosa grazia e questo diciamo denota anche una certa ecco un certo devozionismo cioè un certo essere in chiesa per determinati motivi e oggi la santità è possiamo dire come quel lievito che sta nascosto nella nella farina che fa fermentare poi quella pasta e credo che l'umiltà la semplicità e soprattutto tra virgolette quel nascondimento che i segni dei tempi ci stanno dicendo perché non siamo più tra virgolette maggioranza ecco è lì che possiamo noi trovare la santità cioè nell'essere tra virgolette nascosti umili e diciamo come proprio il lievito ma che quel lievito senza la farina la pasta senza quel lievito non non riuscirebbe a crescere ecco e allora per chiudere questo ragionamento possiamo dire che i santi sono un esempio di vita piena ed abbondante assolutamente sì una espressione molto bella usata da Giovanni Paolo II che tra l'altro ha perseguito anche in maniera strategica una scelta di chiesa che è quella di moltiplicare le canonizzazioni attraverso anche figure le più diverse ecco laici laiche coppie di sposi consacrate consacrati proprio ad indicare questa direi universalità della chiamata la santità compiuta in alcune figure significative beh parlava della della santità come la misura alta della vita cristiana ordinaria e questa espressione è un'espressione che dice una pienezza di vita che si realizza il santo non è colui che vive come una madonna confitta è una persona che è realizzata fa fiorire la sua umanità e questa umanità la fa fiorire anche in maniera eroica per certi versi penso che ne so a Pino Puglisi il santo dei nostri giorni Don Pino Puglisi che nell'atto ultimo della sua vita dinanzi a colui che andava per ucciderlo dà una risposta che è nello stesso tempo disarmante e forse anche con quel tratto di ironia che ci riporta alla preghiera di San Tommaso Moro un santo di molti secoli fa che ha anche una sua attualità e Pino Puglisi al suo uccisore diceva ti aspettavo è un po' il segno di una come dire di una vita che si compie e che si compie anche con una grande consapevolezza che siamo chiamati a stare lì dove il Signore ci chiama a essere e a farlo con quella ordinarietà e quella semplicità che in alcuni contesti diventa eroica come nel caso di Pino Puglisi ma credo che sia altrettanto eroica pensando che ne so a una a una moglie accanto a un marito con la SLA no? e che sta lì e che è rimasta fedele a quella a quel sì detto in senso vocazionale il giorno del matrimonio nella buona e nella cattiva sorte nella salute e nella malattia così come tanti altri esempi si potrebbero fare e allora io ringrazio davvero di cuore Don Carmine Catalano responsabile del servizio Diocesano per le cause dei Santi della Diocesi di Andria ringrazio Don Adriano Caricati che è componente dello stesso servizio Diocesano e parroco del Sacro Cuore di Andria ringrazio Silvana Campanile responsabile della biblioteca Diocesana Sant'Omaso d'Aquino di Andria ringrazio Giuseppe Coratella presidente parrocchiale dell'azione cattolica dell'Annunziata di Andria grazie a voi per aver dato vita ad un dibattito interessante che sicuramente sarà da stimolo per tanti nostri telespettatori l'appuntamento per tutti nei prossimi giorni sempre con speciale interviste grazie grazie a tutti